Un cordiale saluto ed un buon pomeriggio dalla redazione di Firenze Smart in studio Nicola Giannattasio. Sul raccordo Siena-Firenze per lavori e rallentamenti in entrambe le direzioni tra San Casciano e l'allacciamento per la A1 di Firenze in Pruneta. Il traffico scorre al momento regolare su tutta la rete autostradale della Toscana. Sulla A1 segnalato personale su strada per lavori nel tratto tra Chiusi e Fabbro in direzione Roma. Sulla A12 è chiuso lo svincolo di Rosignano Marittimo in entrata in direzione Livorno in uscita in direzione Sud. Ricordiamo l'obbligo di dotazioni invernali a bordo, catene da neve o pneumatici stagionali. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!